amici di moto.it benvenuti in questo nuovo video oggi ci troviamo a città di castello all'evento più pazzesco dell'anno vale a dire spicy tap di gas gas andremo a provare tutta la gamma off road a partire dall'enduro che potete vedere già dalle mie spalle ci sono circa 30 moto da enduro tutte le cilindrate e siamo già vestiti perché non abbiamo tempo da perdere andremo subito a provare tutti i mezzi e poi andremo a raccontarveli insieme a paolo fabiano come prima moto tra e mezzo quattro tempi da enduro siamo sempre accompagnati tutto il giorno da andrea verona adesso però tocca andare bene ragazzi ho appena terminato il testo con il tre mezzo quattro tempi sono ancora in sella moto davvero facilissima e anche come settaggio molto facile sia nel difficile che nel fettucciato nel fettucciato avrei preferito forse un po più dura ma in questi questa tipologia di tracciato che è una via di mezzo ci sta questo setting è una moto sorprendentemente facile soprattutto anche per il motore molto dolce sotto non ti strappa questo tracciato lo facevo in seconda in terza con canali veramente tosti e viscidi soprattutto anche dalle rocce ma ti da sempre sicurezza anche perché se il setup è molto molto buono la nuova ergonomia della gas gas potrà sembrare magari un po più larga in mezzo alle gambe qua nella parte del serbatoio ma quando sei in sella non te ne accorgi neanche così tanto fatta veramente bene perché non si incastrano le gambe scorrono benissimo cambio elettronico non è malissimo ma non l'ho utilizzato tanto anche perché non si cambia tantissimo in questa tipologia di tracciati a me piace tanto sfrizionare quindi preferisco cambiare con la frizione e traction control mi ha aiutato però se vuoi una reazione un po più pronta e aggressiva ti conviene disattivarlo magari nei terreni bagnati così è ottimo il traction control adesso saliamo in stella di nuovo allora ragazzi sono appena sceso dal 302 tempi factory edition una moto facilissima veramente nello stretto soprattutto nello stato mi dà una confidenza impressionante anche data da una grande componentistica come Akrapovic che dà un'erogazione veramente fluida e aggressiva nello stesso tempo quando ti serve magari in tracciati come questi che serve un po più di aggressività ecco rispetto al 4 tempi questa pecca un po nel fettucciato perché di allungo non ne ha troppo infatti secondo me a livello di prestazioni 4 tempi nel fettucciato va un po meglio va un po più forte però nel difficile non c'è paragone alle due mappature le ho provate non è tutta sta gran differenza però si sente un pelo soprattutto nel veloce dove la mappatura strong ti dà più più potenza in allungo oggi è una giornata veramente calda ho girato parecchio in questo due tempi ma a livello di performance non è calato per niente quindi ottimo lavoro allora amici di moto.it siamo in compagnia del gas gas tre mezzo quattro tempi e di Paolo Fabiano gas gas italia che ci racconterà nei dettagli la nuova gamma enduro innanzitutto ho notato subito un'ergonomia un po più particolare rispetto all'anno precedente sì esatto abbiamo cambiato la parte delle forme naturalmente abbiamo cambiato anche le grafiche il colore rimane sempre molto molto gas gas molto rosso sempre rosso sì però abbiamo reso l'ergonomia più più in linea con quelle che sono le esigenze del pilota quindi punti di contatto che si sentono di più abbiamo anche qui ridimensionato tutto quello che è il telaio abbiamo rinnovato completamente e siamo andati proprio a lavorare su quelle che sono le parti più stressate per raggiungere più materiale lì e ridurre materiale diciamo in altre parti abbiamo fatto degli interventi molto importanti per me di tutto sui due tempi perché il due e mezzo il tre e mezzo oggi montano la nuova iniezione TDI rispetto al modello precedente si basa su una coppia di iniettori che sono prima e dopo la farfalla del corpo farfallato quindi è cambiato sistema di iniezione è cambiata anche l'attuazione della valvola allo scarico che oggi è attuata da un motorino gestito elettronicamente manteniamo comunque sempre nel miscelatore questo è importante ricordarlo ma abbiamo raggiunto uno step superiore invece parlando di quattro tempi avete fatto nel migliorare si quattro tempi sono migliorati su due e mezzo specialmente perché aumentata comunque la abbiamo modificato diciamo le misure dell'esagio corsa quindi abbiamo reso il motore più compresso più verso superquadro a livello di misure e quindi questi miglioramenti hanno consentito di avere una moto molto più pronta molto più coppia anche a partire dalle cilindrate inferiori infatti il due e mezzo sembra quasi tre e mezzo e il tre e mezzo si avvicina di più al quattro e mezzo poi 500 è incredibile come sempre però ne hai parlato tu 500 e 4 e mezzo sono le vere novità per quel che riguarda la gamma gas gas 2024 perché sono finalmente parte della gamma abbiamo comunque aggiornato le sospensioni diciamo le sospensioni standard sono aggiornate quindi sono i più recenti aggiornamenti di WP suspension quindi insomma ti sei divertito da paura qua è bellissimo poi ospiti veramente eccezionali tra l'altro in compagnia del tre e mezzo quattro tempi usato da Andrea Verona che è presente oggi abbiamo fatto vedere qualche traiettoria quindi insomma sarai un po' più veloce sulle cose sì sì speriamo dai benissimo per l'enduro siamo a posto passeremo il cross sì più tardi volentieri grazie ciao grazie allora ragazzi siamo in pausa pranzo andiamo a importunare Andrea Verona posso disturbarti allora com'è la situazione qua bene dai non male ti stai divertendo ti ho visto che anche nel cross la smezzi la smezzi bene cazzo di fianco Barsha devo un po' smerzare se no giusto giusto Barsha ha tirato il filo da tolgere ho visto che combattavate un po' giocavate abbiamo fatto un po' di due giri attaccati e che stai fai fatica a stare uno dietro l'alto perché c'è il terreno comincia a essere secco arrivano le quelle sassate e lui ho detto ho provato a stare dietro ma dopo ho dovuto spostarmi perché anche perché nell'enduro non sei abituato non sei abituato a sassate sì certo però aramate esatto come stai come sta andando la stagione adesso sei in pausa sì dai non sta andando male le ultime gare qua sono andate abbastanza bene sono sono contento dai abbiamo fatto un po' di migliori sulla moto eccetera moto nuova appunto stiamo qua anche a provare moto nuove cambia cambia molto dal modello vecchio quindi abbiamo dovuto diciamo lavorare molto per cercare sia io di adattarmi alla moto che anche vp ragazzi della dell'azienda così insomma di sviluppare un po' la moto e di cuciniatura più addosso e quindi ci avevamo messo un po' di tempo un po' di lavoro e quindi siamo arrivati diciamo che alle prime gare non eravamo proprio super competitivi e quindi non abbiamo fatto subito degli ottimi ottimi risultati adesso insomma dai stiamo prendendo e non sono andate male quindi adesso come hai detto te c'è un po' di pausa quindi abbiamo un po' di tempo per allenarci provare ancora qualcosa arrivare le ultime gare più pronte possibile hai sentito tanta differenza tra il due mezzo dell'anno scorso il tre mezzo di quest'anno va beh a parte il telaio che è tutto diverso ovviamente anche il motore sempre due mezzo tre mezzo cambia molto due mesi devo guidarlo sempre a fuoco e tre mezzo tre mezzo invece si vuoi usare un po' più sotto è un po' più un po' più bello che piace di più a guidarla meglio sì mi piace di più anche ieri sera abbiamo parlato che guidi un po' più pulito la mia guida è un po' più pulita quindi avere i bassi giro diciamo insomma della potenza mi aiuta per sfruttare al meglio diciamo la mia guida quindi no dai sono contento c'è ovviamente da migliorare per essere ancora al top top non siamo al top adesso però ci stiamo lavorando abbiamo vinto anche una tappa si abbiamo vinto una giornata in slovacchia l'ultimo gp del mondiale weekend scorso agli assoluti non è andata male ho chiuso il terzo assoluto il sabato però sei secondi dal primo quindi veramente vicino ho fatto un po' di errori quindi eravamo vicini domenica secondo a otto secondi eravamo lì anche domenica quindi ci siamo già avvicinati cosa importante siamo lì che ci battagliamo quindi sei positivo per i finali di stagione abbiamo visto anche che hai fatto un'apparizione al netzberg è fantastico anche con la vittoria del prologo fantastica per noi che abbiamo visto non so te no no dai non è non è stata una brutta esperienza è sicuramente il prologo più adatto al mio genere al mio tipo di enduro diciamo quindi è un speciale abbastanza veloce anzi molto veloce non abbastanza e bella bella mi sono divertito e invece la domenica c'è stata la main race che come si sa insomma è la gara estrema e quindi è stata un po' una sofferenza ho visto visto vlog sul tuo canale youtube che consiglio di andarlo a vedere ecco i primi 30 minuti sono sono belli mi sono divertito c'erano belle salite impegnative però veloci c'era anche qualche discesa tecnica qualche sentiero impegnativo ma niente di impossibile e quindi mi sono divertito dopo comincia veramente il difficile e lì è tosta poi col tre e mezzo da enduro quindi un bel po' proprio andare a scoprirlo e niente dai magari c'erano l'anno prossimo con 300 due tempi un po' più di allenamento è per quattro tempi è più difficile forse è un po' più facile nel prologo che si era più grande prologo magari può andar meglio anche difficile più pesante grazie mille grazie un piacere magari dopo mi fai vedere due traiettori va bene volentieri ciao adesso ragazzi passiamo al cross mi sono messo il cappello perché tira un po di vento cappello gas gas tra l'altro quindi tutto in tinta tutto molto stiloso in questo grande evento sempre con in compagnia di paolo fabiano eccoci ciao ancora siamo in compagnia della due e mezzo usate da tutto il giorno dalla justin bar si infatti guarda non so se scotta 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 anche perché era agitato viene andate viene andate l'abbiamo visto a terra un po' lungo su prendere le misure scrabbate da davvero americano come ovviamente come anche sull'enduro comunque sul cross abbiamo stretto il telaio diciamo la parte della proprio dell'attacco delle pedane che ora sono anche sono più larghe quindi aver stretto l'attacco del telaio il telaio ci consente ci ha consentito di allargare le pedane di circa 30 per cento in più piastre sono nuove anche queste sembrano quasi ricavate dal piede no sono fatte bene però sono in alluminio forgiato lavorate molto bene anche in questo caso abbiamo una forcella con tecnologia quindi è possibile regolare il carico attraverso la manettina con la moto ovviamente spegnimento a destra e sulla sinistra attraverso l'interruttore delle mappe poter andare a selezionare coi vari tasti la mappa standard la mappa più spinta il traccio controllo e poi la novità abbiamo uniformato i telai quindi gli attacchi dei motori quattro tempi sono tutti uguali in modo che non si abbiano più problemi nel caso in cui malagoratamente si deve sostituire il telaio i telai sono identici però anche in questo caso siamo passati all'iniezione a differenza dell'enduro si fa ancora di scela però comunque l'iniezione è stata implementata anche qui sempre con la tecnologia PBI questo come dicevi è la moto standard però naturalmente sul nostro catalogo accessorico si può spizzarrire una cosa molto divertente che abbiamo lanciato il configuratore 3d quindi è possibile andare sul sito configurarsi la moto e già iniziare a sognare prima che arrivi perché le moto arriveranno verso fino agosto o primi di settembre per essere concessionari però si può già iniziare un po a smanettare e sognare te la puoi immaginare te la puoi stampare puoi fare l'elenco delle parti che vuoi ordinare presentarla al concessionario ringraziamo ancora Paolo Fabiano bellissima giornata bellissimo evento tantissimi ospiti grazie mille ciao Pietro grazie ciao 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 mamma mia ragazzi che spettacolo non so se sono riuscito a farvi vedere ma ho cercato di fare un giro dietro a Justin Barsha ho preso tanto di quello sporco di quelle sassate però ne è valsa la pena quando è che mi ricapita di prendere delle sassate da Justin Barsha quindi l'ho fatto più che volentieri ed ero in sella al due mezzo quattro tempi factory edition moto veramente facile e bella data anche da dalla forcella con valve quindi non è ad aria e le piastre ufficiali vp che la rendono rigida ma al punto giusto che ti dà più sicurezza anche nel veloce rispetto alle sorelle che sono di serie quindi a livello sia di ciclistica che di prestazioni del motore migliora tanto la factory edition invece adesso parliamo del quattro e mezzo sono in sella la potete vedere qua mi è piaciuta sempre quattro e mezzo è un gran bombardone quindi il motore motore si sa va veramente forte in alcune piste quasi ingestibile però anche con le mappature che ho provato qua come potete vedere dai tastini molto semplice mettere o disattivarle oppure mettere disattivare il traction control che oggi ho provato a usarlo ma ho preferito senza per avere una maggiore potenza in uscita di curva il motore non è cambiato granché è sempre quella grandissima potenza che ha quattro e mezzo di ciclistica invece l'ho trovata un po più rigida sul davanti che può piacere o no io ho fatto un po fatica all'inizio ho messo a posto un po la orcella ho dato due click di compressione ed è risultato subito meglio comunque quattro e mezzo è un po più difficile nei salti soprattutto è un po più pesante la senti molto più pesante rispetto al quattro mezzo però diciamo che è la caratteristica di tutti i quattro e mezzo allora ragazzi adesso abbiamo un ospite un po speciale uno che va veramente forte americano sono un po un po in ansia ciao giusti come ti sono bene? Ciao, bene 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 come sentite dopo il vostro incontro? sì bene, oggi è probabilmente quello più difficile il suico che avrò allora Per prima giornata? no, circa cinque giorni, quindi sì, mi sento bene, ho divertito sì, alcuni scrubs e libri ad accadrezzi al stasso, a di us ho molta divertimento, la track è buona naturale, buona tempo per me, nemmeno il track e nel USA è molto fasto Questo track è un po' più alto, è bello, è bello. Il mio obiettivo è per vincere, sì, per vincere, sì, per vincere. Ho racedo magari in qualche settimana, spero, e faccio qualche raceda. Abbiamo super motocross raceda. Hai racedo in Nationale? Non ho racedo in tanto tempo, quindi, magari, magari non. Hai pensato, c'è il food o il track? Non è vero, non è vero. Il track è molto divertente, il track è più divertente che il food. Il food è buono, il track è divertente. Grazie, grazie. Ciao, motocross raceda. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 I due tempi a iniezione sono sempre stati criticati, così però il due mezzo. Due tempi mi è piaciuto. Il motore sotto pecca un po' rispetto all'anno scorso, ma ai medi e alti regimi va molto meglio. è sempre pulita, sembra quasi magra da quanto è pulita si difende molto bene, soprattutto in questi terreni dove è molto dolce sotto a livello di ciclistica è molto guidabile, molto facile è sempre un due tempi, quindi nelle curve la butti come vuoi diciamo che non è cambiato questo fattore anche con il cambiamento del telaio ma a livello di guidabilità è il top come sempre, due tempi ho cambiato anche mappatura, la mappatura 2 mi è piaciuta molto di più in questi terreni magari dove nel pongo preferisco magari nello sbriciolio, nella polvere che si sta asciugando adesso la pista è un po' troppo, infatti bastava dosare bene il gas e riuscire a uscire bene dalle curve senza spazzolarlo, metterti di traverso passiamo invece adesso al 125 due tempi come ciclistica non c'è nient'altro da dire è molto simile, anzi praticamente uguale al 2,5 due tempi se non ancora più guidabile, più facile perché è molto più leggero a livello di motore ai bassi regimi manca un pochettino invece ai medi alti regimi la moto va, va molto bene è molto facile il 125 come sospensioni ovviamente le standard oggi su questi salti erano un po' molline ho dovuto sempre chiudere a 2 o 3 click però si sono difese bene per oggi abbiamo finito, abbiamo provato tutte le moto ho cercato di sporcarmi, di prendere terra di Justin Barsha per voi e niente per questa prova è tutto lasciate un like e iscrivetevi al canale e da me e dalla Gas Gas Dumezzo Dei Tempi è tutto